Ciao a tutti, sono Silvia e sto svolgendo il mio tirocino a progetto QUID. QUID è una cooperativa sociale veronese che attraverso il suo marchio crea collezioni di moda etica e sostenibile. All'interno di QUID io affianco l'ufficio raccolta fondi nella stesura e nella gestione di progetti sia a livello locale che a livello europeo. Io credo che il valore aggiunto di questo master sia nella sua multidisciplinarietà, cioè nella infarinatura che riesce a dare sia a livello economico che a livello giuridico che a livello sociale. Quindi se sei interessato al mondo del sociale in un'ottica molto più concreta e molto più imprenditoriale, questo è il master che fa per me.